Salve, sono Marcello Pellegrini e scrivo poesie da quando avevo 13 anni. La poesia è stata sempre un mezzo per me con il quale comunicare i miei stati d'animo di fronte agli avvenimenti sociali ma soprattutto politici che poi sono quelli che guidano la nostra vita e che c'è la condizione una volta. All'inizio facevo riferimento ai poeti scolastici, quelli che io leggevo sull'antologia tipo Foscolo, Ungaretti, Montale, Leopardi. Leggendo questi autori e iniziando a scrivere la poesia mi ero ripromesso di essere un poeta diretto e comprensibile e non un poeta che non si sapeva bene il contenuto della sua comunicazione perché poi tra l'altro i compiti a casa riguardavano proprio la versione in prosa che era quella di tradurre la poesia che non era molto comprensibile in una forma molto più comprensibile. E dunque durante la mia crescita scrivevo come tutti i miei coetanei adolescenti poesie d'amore che a volte erano poesie d'amore reali altre volte erano solo inventate quindi rimanevano solo sul foglio di carta. E poi negli anni 60 alle superiori iniziai a scrivere poesie che riguardavano i diritti degli studenti il vissuto degli emarginati anche delle proteste dei lavoratori che non avevano i loro contratti sottoscritti tutto questo continuò fino anche al periodo militare dove poi i soprusi e i doveri erano all'ordine del giorno. Diversi anni dopo ci fu una svolta decisiva ovvero sia la conoscenza della poesia di Pablo Neruda e soprattutto della sua opera fondamentale che è il Canto Generale. Ecco, la figura e la poesia di Neruda mi ispirarono perché incarnavano simbolicamente ciò che avrei voluto essere come poeta e ciò che avrei voluto scrivere come poesia. Volevo diventare un poeta epico come lo era Neruda. Ma che cos'è un poeta epico? Ci possiamo domandare, no? E che cos'è l'epica? Beh, intanto possiamo rispondere l'epica è una forma di narrazione in versi che riguarda fatti, avvenimenti storici descrive personaggi, aneddoti, eccezionali, imprese eroiche e il Canto Generale, quello scritto da Neruda contiene proprio tutto questo. E ora, che dire, tutto questo oggi mi appartiene e i miei poemi storici di cui vi parlerò in un secondo video lo stanno ad attestare, anche se in questi ultimi due anni sono ricomparse le poesie sentimentali, le poesie d'amore e di abbraccio. E come mi sono chiesto per un altro video quale fosse il senso della poesia oggi, alla stessa maniera mi domando qual è il senso dell'essere un poeta epico nella nostra era moderna. Io penso che il poeta innanzitutto non debba vivere solo, isolato, chiuso nella sua stanza ma deve stare nel mondo, deve stare con le persone che vivono la loro vita nel mondo e, come dire, sentire attraverso i propri sentimenti le sofferenze, le richieste, le grida di aiuto e l'aiuto di queste persone. E quindi non essere un poeta che è in solitudine nella sua stanza ma deve essere una persona solidale e deve essere per il mondo, stare con gli altri e anche la sua vita deve essere al servizio degli altri. Buona giornata.